e oggi da Semeraro scegli tu aggiungi un euro al tuo acquisto e ricevi una fantastica asciugatrice classe a o se preferisci un meraviglioso smartphone incredibile vero in più da Semeraro sconti sino al 60 per cento e pagamenti in cinque anni senza interessi Semeraro a Torino in strada settimo trecentottanta e corso grosseto trecentotrentasei siamo aperti tutto agosto regolamento in negozio termina domenica primo settembre dallo spirito e stile dello storico locale di Formentera il Bananas nasce a Riva Rossa Torino Casa Bananas un vero ciringhito in un meraviglioso spazio aperto immerso nel verde aperto tutte le sere aperitivo ristorante quality music compleanni ed eventi privati supranotazioni ogni domenica every Sunday music selection by Mirko Paoloni Alex Paoloni live streaming on Radio Party Group Casa Bananas presso il complesso sportivo Master Club via San Francesco al Campo 34 Riva Rossa Torino Venerdì 13 settembre torna Vertigo Yes DJ, DJ Smith, DJ Smith, DJ Smith, DJ Smith, DJ Smith, DJ Smith, DJs, Penso LSP, Moreno Pezzolato, Mirko Paoloni, Simone Volpi, Gianluca Mico, Evento Presso Discoteca Live, Curso Massimo da Zeglio 3, Turino, entro mezzanotte e mezzo in vista, omaggio donna, uomo 10 anni Grazie per la visione!